e salve a tutti ragazzi benvenuti in questa nuova gameplay di final fantasy 10 hd remaster questa è la direttiva di andare a pregare per il prossimo intercessore per il prossimo intercessore per ottenere il prossimo ion una dovrebbe dovrebbe fare qualcosa da che deve tramassare proprio trapassare proprio tutte le vittime di sin che deve seguire proprio il rito del trapassa finché poi se una non esegue questo rito delle persone diventano mostri e poi mostri potrebbero diventare scaglie vicino infatti il nostro caro amico di bus non sa un cazzo perchè è ancora intossicato infatti perchè se non vengono dai passati i morti e poi tutti i morti e dopo tutti i morti proprio attaccano le persone e ossessiamo questo proprio grido di trapasso e poi per eseguire il grido di trapasso chi una deve ballare c'è come uno se un invocatore deve ballare proprio per eseguire il grido di trapasso e poi se non lo capisco infatti infatti l'ottremondo dovrebbe essere proprio di paradiso c'è l'aldilà l'aldilà ti fa una fenda di 10 ok seguiamo proprio vediamo proprio la dolce di una che segue il grido di trapasso grazie 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 ciao grazie grazie per il prontato se sei un gruppo attenzione grazie per l'anno ho visto proprio una ballerina di professione E ok, chissà poco nel porto di chi lui dovrebbe esserci un missionario o altro, a proposito. E ok, chissà poco nel porto di chiudere. E ok, chissà poco nel porto di chiudere. E ok. 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 E 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 non credo in questo episodio. E credo se ne... E dopo il rito del trabasso se ne sono già andati 5 minuti di registrazione. E ok. 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 Comparare un paio di... E perciò che cambia un paio di... E potremmo anche comprare i qualità... E anche le amiche danno spotto. anche se ne abbiamo già alcune e poi non so come cacchio ho fatto adottare quell'immonoacqua c'è stato proprio una botta di culo ok andiamo a Chilica ah no è un po' di Chilica teoricamente dovrebbe essere proprio il nostro nuovo Dangeon però non andiamo a Tempio per il momento non andiamo a Chilica non andiamo a Chilica non andiamo a Chilica non andiamo a Chilica ok adesso non andiamo a Chilica non andiamo a Chilica grazie Grazie a tutti. 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 Dovremmo imparare una specie di abitazione. Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. Ok. 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 Grazie a tutti. 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 Ok.